Ciao a tutti benvenuti su Hermes Channel Web TV in una nuova puntata di sai che oggi parleremo in particolar modo di parapsicologia, psicologia oppure ciò che abbiamo noi nella mente e questo ce lo può diciamo illuminare così diciamo Mara Vasilakis di Castellana Grotte. Però prima di vedere il video iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e se vi piace questo video cliccate mi piace perché per noi è molto importante. E volevo anche dire se qualcuno vorrebbe gli piacerebbe a noi sponsorizzare questa trasmissione grazie in anticipo. E ovviamente partecipare magari a nuove interviste perché sarete voi a raccontare una vostra, un vostro consiglio o suggerimento. E adesso vediamoci il video. Ciao a tutti siamo in compagnia di Mara Vasilakis, la sensitiva chiaroveggente e cartomante di Castellana Grotte. E oggi a sai che sveleremo che cos'è la sensitività, la chiaroveggenza e la cartomanzia. Mara iniziamo subito. Che cos'è la sensitività? Ciao a tutti. La sensitività sembrerebbe un parolone, anche se invece fondamentalmente è una parola semplicissima. Sensitività raggruppa tante terminologie. Può essere sensitivo chiunque di noi. L'importante è sviluppare questa facoltà perché tutti quanti potremmo svilupparla. Perché come sappiamo il nostro cervello è magnifico. Il nostro cervello può fare di tutto. Però purtroppo sfruttiamo soltanto il 5% del nostro cervello. Se potessimo sfruttarlo tutti, saremmo tutti dei sensitivi, dei chiaroveggenti e anche dei cartomanti. Perché no? L'importante è poterlo sfruttare. C'è chi li percepisce subito questi segnali come me. Io da piccola ho avuto delle percezioni, delle sensazioni. Parliamo di me in questo momento. Le mie sensazioni sono attraverso i sogni. Ho avuto sempre sogni importanti da bambina. Sogni che mi facevano capire il futuro. Il mio personale o dei miei vicini, dei miei amici, dei miei parenti attraverso gli angeli. Io li chiamo angeli perché per me sono angeli che interagiscono ovviamente con me travestendosi da persone defunte e mi raccontano quello che mi deve accadere o deve accadere agli altri. Ecco, i sensitivi sono tantissimi nel mondo, parliamo del mondo, che poi possono anche essere chiamati medium. Ci sono varie parti della sensitività. C'è chi, come me, tramite i sogni. C'è chi invece guarda e vede addirittura l'aura delle persone, la bontà, la cattiveria e anche col potere delle mani. Diciamo che la sensitività fa parte dei cinque sensi, volgarmente o comunemente chiamata sesto senso. Interessante Mara, ma per esempio uno come fa a scoprire se è sensitivo? Lo scopri da sola, nel senso che ci sono piccoli segnali che la vita ti dà. Ad esempio, ti faccio un esempio, viene una tua amica e ti dice, sai cara, dovrei fare un esame all'università, ma tu che senti? Che dici? Lo passo? E in quel momento tu la guardi e dici, sai, io sento che lo passi o non lo passi. Sono sensazioni che vengono dentro di te, che magari poi ti dicono tutti quanti, ma sai, avevi ragione. E allora oggi, domani, dopodomani è sempre la stessa cosa, quindi capisci che c'è qualcosa in te che è diverso da altre persone. Grazie Mara. Invece chiaroveggenza, che cos'è? La chiaroveggenza è prevedere o predire il futuro in lungimiranza, cioè nel senso nel futuro, nel prossimo futuro. E attraverso sempre le sensazioni o attraverso altre cose che si possono fare sempre in questo campo. Bello, quindi vuol dire che fa parte comunque di sensitività. E invece cartomanzia è tutta un'altra cosa? Diciamo sì, è tutta un'altra cosa. Dipende sempre da chi usa la cartomanzia, perché chiunque può fare cartomanzia. Anche una persona normalissima può comprare un mazzo di carte e poter fare, aprirle e leggerle. Ecco, dipende. Io, per esempio, se uso la cartomanzia, sfrutto sempre la mia sensitività, perché le carte mi servono solo come input a poter aprire e vedere il futuro, il presente, il passato di una persona, ma io ci metto la mia sensitività, nel senso che io vedo e gli angeli, quelli che io chiamo e definisco angeli, è come se mi parlassero nell'orecchio e attraverso loro do delle risposte a chi ha dei dubbi o dei problemi. La cartomanzia, dicevo prima, ha tanti rami, tante tipologie di carte. Si possono fare anche le carte attraverso le classiche carte da scopa, le carte degli angeli, le carte delle fate, i tarocchi. Sono tantissime, una miriade di possibilità. Ovviamente bisogna, ecco, io lo dico adesso, lo dico e lo nego, bisogna stare molto attenti, bisogna vagliare e essere attenti, come l'ho detto già prima, a chi ci si rivolge, perché intorno a noi c'è tanta gente falsa, tanta gente ipocrita, che sfrutta le debolezze altrui. E' vero, abbiamo bisogno magari di un consiglio, chiamiamolo così, però, ecco, bisogna essere attenti, attenti a chi si ha di fronte, a trovare la persona giusta. Come si fa? Beh, la prima cosa che dovete aprire gli occhi e le orecchie è quando incominciano a chiedervi tantissimi soldini. Quelli non servono. Perché se una persona ha delle doti e ha delle cose da poter offrire agli altri per aiutarli, non ha bisogno di arricchirsi e far del male alla gente. Ecco, io interagisco con le persone che chiedono il mio aiuto con le carte, le mie carte sono le carte delle fate o degli angeli. Io adoro questo mondo, il mondo degli angeli e delle fate, perché io li sento intorno a me. E' come se fossero presenti sempre nella mia giornata, nella mia quotidianità. Se io faccio una domanda a loro, loro mi rispondono attraverso qualsiasi rumore, un clacson, un abbaio di un cane, una porta che sbatte. E loro sono sempre presenti. O se sono triste, magari in quel momento mi arriva una piuma, una piuma di un uccellino. E quello è l'angelo che in quel momento mi sta rispondendo in maniera positiva. Fatelo anche voi, perché è bellissimo interagire con gli angeli. Ecco, magari un esempio, un piccolo esempio della mia lettura breve, con la persona che mi è di fronte e la persona mi fa delle domande e io le chiedo di concentrarsi su quello che lei vuol sapere e io nel frattempo mischio le carte, chiedendo ovviamente il suo nome e parlo con gli angeli o le fate e chiedo loro se cortesemente loro possono rispondere alle domande di questa mia cara amica e se gentilmente loro possono darmi una risposta. Nel tagliare le carte ringrazio gli angeli e le fate in anticipo per la loro risposta e per la loro gentilezza. Nel frattempo apro le carte e la persona che mi è di fronte, ovviamente in questo momento faccio io l'esempio, mi sceglie per esempio tre carte. Nel scegliermi queste tre carte io le giro e le dico ovviamente quello che io leggo, quello che gli angeli mi danno, mi dicono di comunicare a questa persona. Ovviamente adesso non c'è nessuna persona quindi magari non posso dire niente a nessuno però mi risponde del passato, del presente, del futuro. se ci sarà una malattia, un incidente, una cosa bella nella scuola, un matrimonio, una rottura, un tradimento e ovviamente in quel caso le mie sensazioni, a parte le carte, mi dicono di dare un consiglio ovviamente sempre positivo, sempre buono, ringraziando ovviamente sempre gli angeli e dando consigli spassionati e belli alla persona che sta di fronte in modo che quando va via, va via felice e vola come un uccellino contento. Ma è vero, si sente un po' in giro che comunque cartomanti e sensitivi possono guarire dalle malattie forti? Ma no, assolutamente no, non dovete assolutamente credere a queste cose, sono delle menzogne, sono delle grandissime bugie perché la malattia è la malattia e va curata in ospedale con il medico e con i farmaci. E' vero che puoi essere curato da una malattia psicologica, psichiatrica perché non è altro che un poter parlare, interagire con una persona ma fondamentalmente comunque il medicinale ci vuole sempre, quindi non credete a queste persone che vi possono fare solo del male. Grazie Mara di questo messaggio veramente importantissimo, quindi occhio! E ovviamente mi viene spontaneo di chiederti di farmi a me le carte. Sicuramente, ma subito cara, così l'esempio sarà più visibile. Adesso scoprirete tutti i miei fatti. Non è vero! Adesso concentrati, pensa agli angeli, alle fate, che in generale a quello che tu vuoi sapere, fai la domanda dentro di te e intanto dividi con la mano sinistra, con la mano del cuore e insieme chiediamo grazie della risposta agli angeli. Grazie, grazie e ancora grazie. Sceglimi tre carte. Bene, in questo caso sono delle carte bellissime. Non sempre capita, però le sono uscite delle carte una più bella dell'altra. Ecco, visto che sono così belle le carte, adesso te le spiego. La prima carta è la carta degli amanti, gli amanti riferiti in senso amore per te. Questa carta è dell'Arcangelo Raffaele che ti dà un consiglio e ti dice che è rivolto sulle relazioni intime. Stai attraversando un bel periodo, un periodo d'amore, sei molto innamorata e sei amata, non solo nella sfera intima, ma in generale sei una persona che sta avendo tante soddisfazioni per quanto riguarda l'amore, le persone che ti dicono ti voglio bene, sei una bella persona. In più ti esce la carta bellissima che è l'imperatore. L'imperatore è una carta importante, il consiglio è sempre dell'Arcangelo, degli angeli, dell'Arcangelo Michele. Questa fa parte della tua forza. Tu sei come un imperatore, un imperatore che è non l'imperatore di solito quello che è detto alle leggi, no, tu sei forte come l'imperatore e quindi hai la capacità di poter fare tutto, di poter sfondare in qualsiasi cosa tu voglia. Qualsiasi cosa tu voglia fare in questo momento, in questo periodo, tu puoi fare di tutto. Tutto ti andrà bene perché l'Arcangelo ti dà questo consiglio che il periodo è ottimo per poter fare qualsiasi idea tu abbia in questo momento di poter fare. La terza carta è ancora più bella. Signorini è uscito il mondo, il mondo è tutto, il mondo è avere il mondo nelle mani. L'Arcangelo Michele, di nuovo ti è uscito l'Arcangelo Michele, mi dice che se hai intenzione di fare una nuova cosa, una nuova attività, un nuovo progetto, se vuoi avere un bambino, è un periodo ottimo per poterlo fare. Ottimo lavoro, gioia, soddisfazioni, avrai gratitudine e un sentiero praticamente già fatto per te, è pieno di luce, è illuminato, quindi sappi che avrai un anno bellissimo! Sei fortunata! Grazie mille! Allora, speriamo che i suggerimenti e curiosità di Mara vi siano stati utili e vi sono piaciuti. Grazie e ciao a tutti! E sai che può interessare o coinvolgere anche te! Grazie a tutti!